Il tratto autostradale è la salita Reggio Calabria tra Morano e Campotenese, questi sono i lavori di ristrutturazione dell'autostrada, qui è un altro tratto, le gallerie le stanno allargando, qui siamo già sul tratto nuovo, un tratto dell'asfalto che è stato fatto attivamente, dobbiamo dire, sotto c'è l'altra galleria che stanno allargando qui, hanno fatto il viadotto però, guarda caso, non riuscite ad allargare solo la galleria, non hanno allargato praticamente nulla, la strada è rimasta così come era, con le sue due buone vecchie corsie, stretta, in sera è pericolosa, prima è pericolosa anche adesso, adesso vai di più perché si entra nella galleria, molto veloce perché è più larga e poi si va in ogni punto e si restringe immediatamente all'uscita e all'entrata e quindi possono capitare delle situazioni in altra, non del tutto più agevoli, soprattutto per tutti i restaurantisti, la domenica, che girano, ecco, contante adesso l'uscita, però qui è più larga, è allargato anche il tratto del vostro stradale, qua ci sono riusciti, non si capisce perché qua sono riusciti e prima no, questo dovrebbe chiedere a qualche ingegnere competente dell'ANAS che ci dovrebbe esprimare questa cosa, comunque qua, si ritorna di nuovo su un'altra doppia corsia, qui siamo qua fino al centro dello simbolo di Campo Terese, qui praticamente la costata poi si sposterà sotto a sinistra, come potete vedere, ma è un po' vuoto perché il porto è stato buttato giù, si deve essere con su e interamente, vedremo anche qui se a gennaio del 2013 sarà come annunciato dal ministro delle infrastrutture, tutto il porto, qui rimanga proprio l'altra strada, l'altro lato non esiste più, si è fatto saltare in aria con cariche di tiramite e altro materiale, quindi siamo qui a città, qui adesso, no no, ma questo è il lato sinistro, questo è stato già rifatto, adesso andiamo sul lato destro e come potete vedere anche qui la galleria è stata completamente ricostruita, su quella vecchia è stata solo allargata a fianco prodotto, la ne vedete due di gallerie, una deve essere quella da modernare e quella nuova da fianco, quella poi verrà chiusa in mezzo, ecco qua, è stato tutto il lavoro. Ricordiamo che siete sempre sintonizzati su 3 radio cinghiale stereo network, che è la versione alternativa della vecchia Radio Antigna 2000, la radio che dirigevo negli anni 80 che poi è stata chiusa come tanti, l'ha fatto alla fine del Piercolino, sogna praticamente in attesa di poter tornare un giorno magari, chissà, quando le nostre normative cambieranno. Ecco qua, grandissima autostrada modernata, hai dati di lavoro in corso e qui un bellissimo piano stradale, ottimo, tutto nuovo, non so che tanti anni resisterà, però noi finiamo a pensare che questo certo darà lavoro a tante e tante persone, ecco qua, ecco qua. Poi, complicità, la Tecnis, che è quella che ha fatto questi lavori, l'azienda, non è la Tecnis, di una volta in cui non si uscita, ma è la Tecnis, che è un'altra cosa. Com'è bella questa Calambria che il Signore Dio ci ha dato, io certe volte vedrei, non filmare nel giorno, ma filmare solo nel campo, perché è incuriosire ancora di più le persone che vanno venire qui e vedere quello che abbiamo e che non abbiamo mai saputo valorizzare. Siamo all'altezza di Campo Venese, tra poco troveremo lo svincolo di Campo Venese dove si entra qui nei parorami stupendi, i parorami che ho vissuto personalmente, una delle mie più belle storie si sconda qui, non sto a citare e a dire i personaggi, ma mi piace ricordare che proprio qui, in questo senso, sono state le mie attraverzie maggiori, pensate che si diceva, ma è una belliglia da ripare, hanno un nome particolare, le fatiche, le attraverzie, hanno un nome particolare che adesso non mi viene, quindi qui siamo di nuovo nel vecchio canto, non siamo a chiudere, grazie.